Si attende la settimana prossima il ritorno di Giulio Nirelli in Italia per definire il passaggio di quote all'interno del giarre calcio. Ormai il nuovo assetto societario è deciso. Nirelli sarà il presidente con Alessandro Curcuruto, Saro Patti e Saro Patanè che faranno parte del direttivo della società. Adesso c'è da sciogliere il nodo allenatore. Dai colloqui telefonici intercorsi tra i quattro in queste ore starebbe emergendo l'idea di costruire un'organizzazione interna che vedrebbe la guida tecnica affidata alla coppia Patanè e Patti, con entrambi che si occuperebbero anche del mercato. Appare quasi certo che tutti e quattro comunque l'anno prossimo saranno ancora calciatori a tempo pieno. Ed è qui che si gioca la sfida più importante e più difficile del nuovo giarre calcio, la capacità dei quattro di scindere il ruolo tra calciatore e dirigente.